Il tuo Stargate Il tuo compito è riallineare lo Stargate. Ce la fai o no? Non posso. Mi accedenti sta succedendo. I miei ordini erano precisi. Rilevare tracce di eventuali pericoli. Ne ho trovate. Non può funzionare senza il settimo simbolo. No! Kurt Russell, James Spader, Jay Davidson, Stargate. Grazie a tutti.